Vado sulle spiagge della Versilia, Forte dei Marmi, Pietrasanta, dove è collegata con noi Daniela Santanchè, parlamentare di Fratelli d'Italia. Buongiorno Santanchè. La politica si deve occupare subito dei 5 milioni di poveri in Italia, si deve occupare del lavoro, cosa che in Italia purtroppo il lavoro non c'è più. Questi sono temi che sono i più importanti nell'agenda degli italiani perché gli italiani oggi pensano al lavoro, pensano non arrivare alla terza settimana del mese ma alla prima. I pensionati che sono le persone che in questo momento, quelli che hanno la pensione sociale, fanno fatica a arrivare alla prima settimana del mese, insomma dare lavoro. Dare lavoro, dare sicurezza ma prima agli italiani. E' certamente prima agli italiani perché io voglio dire 5 miliardi che sono i soldi che gli italiani hanno speso per mantenere non chi scappa dalla guerra ma chi è clandestino nel nostro paese, chi non ha titoli per stare sul territorio nazionale e abbiamo speso 5 miliardi di euro degli italiani. Io vorrei fare semplicemente un cambio. Diamo quei soldi ai 5 milioni di famiglie povere, ai nostri pensionati, ai nostri disoccupati e ai nostri inoccupati e non a gente che viene qua per stuprare le nostre donne e rubare nelle case. Avete visto l'altro giorno che cosa è successo di una persona che è stata fatta uscire dalla galera e prima cosa cosa ha fatto? Io non credo che tutte le persone che arrivano nel nostro paese debbano essere messe o identificate con episodi assolutamente deprecabili e condannabili che però riguardano le condotte individuali. Angelo Bonelli, ben arrivato, storico esponente dei verbi. Che le condotte individuali? Che le condotte individuali? Bonelli? Che vuol dire condotte individuali? Vogliamo mettere al centro la legge, la legalità? E vogliamo mettere che la criminalizzazione generalizzata dei migranti fosse un'operazione legittima? Non c'è la criminalizzazione, non è criminalizzazione. Daniela, non dare una mano a chi poi non parla di lavoro. Parliamo di lavoro. Ogni volta che si parla di questo, si tira fuori l'immigrante e lo stupratore. Per cortesia, basta! Si parli di lavoro, lo dite voi. Guarda, io sono qua a parlare di lavoro. Ecco, si parli di lavoro! Io sono qua a parlare di lavoro, di lavoro, di pensione. Ci arriviamo, per favore. Quindi voglio dire, queste cose indirizzale ad altri. Allora, Angelo Bonelli... Allora, parliamo di lavoro e non di clandestini. No, quello è il centro di clandestini fa lavoro. Ci arriviamo tra un momento. Io sono qua a parlare di lavoro. E non di clandestini, di superpare, di disuguaglianze. Esattamente. Di ragazze, di ragazze che lavorano. Ci arriviamo tra poco. Allora che c'è? Siete voi che parlate di questo. Angelo Bonelli, forse è arrivato il momento in cui anche lei potrà parlare. Io proprio sono in una fase zen, non c'ho proprio voglia di urlare. Figuriamoci se c'ho voglia di stare a... Ci ho detto, quanto segnalava Daniela Santanché, mette, secondo me, il coltello davvero nella questione. Perché sul tema della riduzione delle disuguaglianze, sull'offerta del lavoro e su chi devono essere i beneficiari, prima gli italiani o solidarietà per tutti, si è giocata la rovina della sinistra. E si continua, devo dire, a usare una tragedia epocale. Perché nella storia di questo mondo, del nostro mondo, il tema della migrazione ha sempre creato contrasti. Dall'epoca dei Romani, se volessimo, arriviamo ad oggi. Non si può utilizzare però una tragedia epocale di donne, uomini e bambini che muoiono nel mar Mediterraneo per poi lucrare e aumentare i propri consensi elettorali. Facciano la loro battaglia, ma io lo ritrovo questo veramente ignobile. Io le mani sporche di sangue non ce l'ho! Senti, santa che cerca di stare serena, te lo dico la romana, stai serena, sta al posto tuo, cerca di farmi parlare perché io francamente ne sto a sentire una che urla così non ce la faccio proprio, non ce la faccio. Ma stai serena, stai serena, te lo dico in italiano o la romana? Stai serena è un'espressione che politicamente non porta bene. Cerca di stare serena, stai serena, stai pure sul bar divano, in un posto dove la gente... Ma tu vieni a parlare di diseguaglianze qua, stai in un posto che quella paga da là costa 1300 euro al giorno, chiaro? Quindi ma che cosa vuoi stai a dire? Stai essere serena se volevo parlare di diseguaglianze. Ma che cretina è! Cambiati l'investimento, metti un vestito di lei! Non so, levati quei brillocchi che c'hai addosso, metti un vestito di questo! Allora, non vuoi parlare, non vuoi parlare, non vuoi parlare, pressioni, se mi hai bisogno di questo atto, non lo faccio più, prometto, non lo faccio più. Bisogna criminalizzare! Allora, detto questo, gli ultimi, gli ultimi, gli ultimi... Ma non è che questa trasmissione... Io vorrei disperare un dibacito che se è acceso sugli argomenti politici va bene, se diventa un bisticcio sulle questioni personali non assicurano la passione. Cretina sei te, capito? Perché non sono nemmeno comunista, sono un ecologista, e quindi cretino lo vuoi a dire a te stessa, chiaro? E io non ho insultato nessuno, cretina sei te. E io qui è...